Giuseppe Zeno Giuseppe Zeno, età, altezza, moglie e figlia dell'attore Quanti anni ha Giuseppe Zeno? La vita privata dell'attore napoletano. Giuseppe Zeno è uno degli attori italiani più apprezzati e stimati, sia al cinema sia in tv. Nato a Napoli nel 1976, ha 41 anni ed è molto alto, ben 183 centimetri. Prima di diventare famoso in Italia ha lavorato a lungo in Sud America, dove si è trasferito per un periodo per partecipare ad alcune tourne teatrali. Il primo ruolo importante è arrivato con la quinta e sesta stagione di Incantesimo. Subito dopo sono arrivati un posto al sole e gente di mare. La grande popolarità è però giunta con la serie Mediaset L'Onore e Il Rispetto, dove ha indossato i panni Santi Fortebracci, fratello del più famoso Tonio interpretato da Gabriel Garco. Successivamente è stato nel cast di molteplici prodotti per la tv. Qualche nome? Rossella, il clan dei camorristi, il paradiso delle signore, scomparso. Cosa si sa invece della vita privata di Giuseppe Zeno? È sposato?. Il grande amore è l'attrice e collega Margaret May. Il grande amore è l'attrice e collega Margaret May. La maid, diventata famosa nel 2009 con il film di Giuseppe Tornatore Baria. I due si sono conosciuti nel 2015 e non si sono più lasciati. Zeno si è innamorato della collega guardandola recitare proprio nella pellicola che l'ha resa popolare e negli anni ha fatto il possibile per riuscire a incontrarla. Allo stesso modo, la maid è rimasta affascinata da Giuseppe, che ha conosciuto appena un paio d'anni fa grazie ad amici in comune. Dunque un colpo di fulmine per entrambi tanto che, una volta insieme, hanno deciso di creare una famiglia, nel 2017 è nata la piccola Angelica, la prima figlia della coppia. La nascita della prima figlia Angelica. Giuseppe e Margaret, il cui vero nome è Margaret Tamara Maccarrone, hanno vissuto questo momento delicato e importante lontano dai riflettori, la nascita della bambina è stata annunciata sui social network solo diversi giorni dopo il parto. Per esprimere tutta la sua gioia da neopapà, Zen ha condiviso una citazione tratta dell'opera Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Il mio cuore aveva mai amato? Occhi rinnegatelo, perché non ha mai conosciuto la bellezza fino ad ora?.